pezzone pezzone un mondo migliore Adamo Cirelli allora prima di tutto devi dire dove si può trovare questa canzone perché questa canzone io non lo so se perché tu in qualche modo sei vicino a una certa spiritualità però mi ha fatto sentire bene e quando un pezzo mi fa sentire bene ha una valenza ancora più grande dove si può trovare questa canzone di Adamo Cirelli un mondo migliore allora beh si può trovare su tutti diciamo tutte le piattaforme di streaming su iTunes ovunque bisogna naturalmente dire un grazie a John Toso per aver fatto in modo che questo che questo brano ci fosse nel senso che prendesse vita e quello che l'unica cosa che voglio dire che come dicevi prima tu le persone dovrebbero fare veramente qualcosa per la disabilità nel senso che spesso ci perdiamo dietro tante parole e non facciamo i fatti invece bisognerebbe fare i fatti un po come il brano di Alessandro ecco quello è un brano che dovrebbe arrivare prima in classifica perché dietro c'è un progetto importante c'è una storia di vita importante quindi sono questi brani che dovrebbero arrivare alle orecchie di tutti bravo 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 veramente Adamo Cirelli da cercare su facebook da scaricare legalmente questo pezzo mondo migliore e poi magari adesso sentirei